Cantare con libertà. Io ho un sistema, per aprire la gola significa abbassare il laringe, no? Cioè tu devi far conto di sbadigliare, la lingua deve essere bassa, e chi non riesce diciamo ad aprirla, questa gola, c'è un sistema un po' diciamo violento, più lento, non succede niente, però pronunciando la U, non U così, ma U. No, devi già partire. Il laringe scende, poi dopo su questo, una volta che il laringe è sceso, che tu hai abituato, come un atleta che deve esercitare i muscoli per poter correre. Così piano piano, nota per nota, fino a che fai tutta l'estensione. E poi ci sono altre cose, insomma, dopo, una volta raggiunta tutta l'estensione, devi pensare alla bellezza del suono, alla morbidezza, ai filati, insomma. C'è da lavorare. La voce è un elemento, ma ci vuole la musicalità, la sensibilità, bisogna essere artisti. E poi ci vuole una grande volontà. Io voglio essere, voglio, cioè ti devi convincere che devi essere la meglio, voglio essere la più brava. Solo così si può ottenere certi risultati. E' una grande disciplina. Disciplina interna. E poi disciplina anche di sapersi dominare, capito? Perché non è facile affrontare un pubblico. E perciò ci vogliono tante cose per essere un buon cantante. Io ringrazio il Padre Eterno che le ha dato questo bellissimo dono. Che tutti non possono avere questa facoltà di poter comunicare attraverso la musica, che è una cosa stupenda, comunicare col prossimo. Sposa, sono disprezzata, fida, sono oltraggiata. Ciò che fece mai. Ciò che fece mai.